Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo utilizzare la definizione di derivata per calcolare il valore della derivata della funzione y uguale x al cubo nel punto x uguale 3. Innanzitutto cominciamo a calcolare il rapporto incrementale relativo al punto x uguale 3 e a un generico incremento h, tale rapporto incrementale esprimibile nella forma delta y fratto delta x sarà pari al valore della funzione f nel punto 3 più h meno il valore della funzione f nel punto 3 fratto l'incremento h. Ora la nostra funzione è y uguale x al cubo quindi il valore della funzione del punto 3 più h è uguale a 3 più h al cubo. Questo cubo di binomio si può semplicemente calcolare ed è pari a 3 al cubo, quindi 27 più h al cubo, quindi h elevato alla terza, più il triplo prodotto del quadrato del primo termine per il secondo. Il quadrato del primo termine è 9, 9 per il secondo fa 9h, il triplo prodotto è 27h più il triplo prodotto del primo termine per il quadrato del secondo, quindi di 3h al quadrato. Quindi il triplo prodotto viene 9h al quadrato. Calcoliamo anche il valore della funzione f del punto 3. Esso sarà banalmente 3 al cubo, quindi 27. La derivata della funzione y, quindi y' calcolata nel punto x uguale 3 è il limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale. Quindi di f di 3 più h, ci abbiamo scritto qui, verrà 27 più h al cubo più 27h più 9h al quadrato, meno il valore della funzione del punto 3, quindi meno 27, fratto h. Tutto questo è uguale, se osserviamo che 27 e 27 si possono semplificare tra loro, è uguale al limite per h che tende a 0 di h al cubo più, ordiniamo i termini, 9h al quadrato più 27h fratto h. Tutto questo può essere ancora scritto come il limite per h che tende a 0 di, mettiamo h in evidenza al numeratore, verrà h al quadrato più 9h più 27 fratto h. Naturalmente h fratto h ci da 1 e il nostro limite si riduce semplicemente al limite per h che tende a 0 di h al quadrato più 9h più 27, ma quando h tende a 0, h al quadrato e 9h tendono a 0, quindi il nostro limite ci da per risultato 27, che è proprio il valore che cercavamo. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.